Saliamo con Denis Cortese verso una delle malghe dove tiene il suo gregge in alpeggio 1600 metri Malga Fiara. La settimana scorsa i suoi 800 capi di bestiame si sono ridotti di ben 45 unità, tutti uccisi dai lupi in un unico attacco che non ha precedenti. Questo è il gregge di Denis, Denis ha subito un attacco di lupi come non se ne ricordano nella storia dell'altipiano con 45 capi uccisi in un colpo solo. Stiamo parlando di un lavoro non un hobby di agriturismo puro, Denis ha 800 capi e si muove tra tre malghe tutto il giorno con il suo fuoristrada per poter accudirle. Ebbene qui, solo qui si capisce cosa vuole dire un attacco del lupo e cosa vogliono dire delle reti alte un metro e mezzo che dovrebbero tenere fuori i branchi. Scendiamo e camminiamo con lui tra le pecore e gli agnelli lì dove ai piedi dell'ortigara e cima 12 la guerra si è spostata da contro gli austriaci ai lupi ma questa volta senza armi. Mi può descrivere il suo sentimento quando è accaduto di vedere 45 pecore uccise? Disperazione totale, sbandamento, non mi rendo ancora conto cosa è successo perché non mi rendo ancora conto cosa possa essere successo. Lei camminando qui assieme ai suoi animali mi ha detto che molte di loro hanno addirittura il nome. Certo ci si affeziona, noi stiamo insieme 365 giorni all'anno, conosci dove sono nate, ti ricordi, metti un nome, metti tutto quanto, ci vivi insieme, ti affezioni. La mamma protegge il suo agnellino, si mette tra noi e lui senza paura, anche se di paura ne ha tante. Molte si sono fatte uccidere per proteggere i loro agnelli l'altra sera. Vedi che sono spaventate, da quando è successo le apprendazioni non escono neanche più dal recinto. Andiamo vicino alle reti così, vediamo. E queste reti servono o no? Perché l'assessore pandice che nell'80% dei casi dove ci sono le reti, la malga è protetta, va tutto bene. Infatti abbiamo visto i risultati. La rete è tirata, è messa giù, è sistemata come va, bene. Elettrificata. Elettrificata, con corrente, con tutto. Nonostante il lupo passa lo stesso. Passa e fa un baffo. Alla fine dal fronte del lupo, tra le 70 malghe che presidiano l'altopiano, vere custodi della matamontagna, trapela un sentimento di abbandono e di scoramento. Loro continuano a dire che tanto ti risarciscono, però dai 5 oggi, 10 domani, 45, il giorno dopo, 50 settimane prossima e rimaniamo con che? Con nulla.